Molti artisti provenienti da luoghi diversi, con un percorso artistico diverso, con tecnica e media espressivi diversi, sentano la stessa cosa, ovvero abbiano la stessa esigenza comunicativa. Vi avresti dovuti vedere, nascosti, silenti, che se ci pensi sono così gli artisti, indecifrabili, segreti, luni, nascosti, incastrati dentro i dipinti. Vi avresti dovuti vedere, tutte quelle anime affini guardarsi nei brazzi, annuire e per ora non profedire. Vi avresti dovuti vedere, Dio, ascoltare oltre, dove il nostro occhio non può arrivare, loro che sanno che in ogni quadro hanno incastrato il cuore. Dio, ascoltare oltre, dove il nostro occhio non può arrivare. Dio, ascoltare oltre, dove il nostro occhio non può arrivare.